Il calcio Il calcio è lo sport più bello del mondo, più seguito. È una scuola di vita, può esserlo. Ma perché ciò sia c'è bisogno di maestri. Noi qui ne abbiamo uno e si chiama Igor Trocchia, allenatore di calcio, allenatore della Nazionale di Calcio 11 Sordi, reduce dalla esperienza delle Olimpiadi dei Sordi in Brasile, dove la Nazionale di Calcio ha fatto la sua bella figura, uscendo probabilmente con la squadra più forte, con l'Ucraina. Esattamente, siamo usciti con l'Ucraina, l'abbiamo portata fine ai supplementari, l'orgoglio di averli fermati, siamo stati gli unici. Parleremo di questa esperienza, perché questa esperienza nasce dopo quelle precedenti. Un allenatore di calcio che ama lo sport, che ama soprattutto i giovani. E con i giovani si è confrontato, finendo però per vivere un'esperienza che dagli aspetti negativi si è trasformata in un'occasione per ricamare quei valori che tutti naturalmente vorremmo che fossero rispettati. E ce ne puoi parlare? Ormai questo è un polverone sano che si è alzato da quattro anni, perché ho scoperto di essere stato il primo allenatore a indurre una squadra di giovani ad andarsene dal campo dopo un'offesa razzista. Però l'obiettivo di un allenatore, soprattutto in quell'età sensibile, che sono tra i 12 e i 14 anni, è educare attraverso lo sport e non educare la vittoria. La vittoria deve essere il formarsi personalmente con i valori morali che le grandi agenzie educative, quindi la famiglia, la scuola e lo sport, devono dare. Diciamo una cosa, quella decisione non è stata presa dall'allenatore, ma è stata presa dai ragazzi insieme all'allenatore. Sì, noi avevamo già fatto un percorso pedagogico parallelo a quello didattico sportivo e questo portava i ragazzi ad avere la mente un pochino più aperta verso questo sport e quindi a pensare all'altruismo, quindi a saper stare in gruppo. Quando io quel giorno proposi loro di andarsene a un torneo per non giocare in una finale, non mi sarei mai aspettato che la loro risposta fosse stata positiva. Questo mi ha riempito di orgoglio, nonché di felicità. Questa esperienza poi è maturata in un libro, Un calcio al razzismo. Sì, questo poi è stato ancora un grande orgoglio da parte mia raccontare la mia storia in audio di ragazzi, che ha voluto approfondire un pochino che tipo di persona sono stato, da quando ero piccolino fino a diventare adulto, diventare allenatore e che tipo di allenatore io fossi. Quindi ho raccontato, loro hanno un pochino romanzato il tutto, però ne è uscito un libro per ragazzi che è molto bello da leggere. A 50 anni si ha già una certa esperienza. Come si è diventato innanzitutto allenatore? Sono diventato allenatore perché una volta smesso all'attività agonistica da calciatore e direttante, volendo rimanere nell'ambiente, mi sono appassionato nel voler dimostrare ai bambini che cosa volesse dire vivere di sport. Quando mi sono avvicinato ai primi corsi mi accorgevo che i miei compagni di corso prendevano il numero di telefono degli insegnanti di tecnica, di tattica e io invece mi facevo dare quello dell'insegnante di pedagogia e mi sono reso conto che la mia passione era unire la didattica sportiva a quella pedagogica. Che differenza c'è tra allenare dei talenti e allenare dei ragazzi che hanno la voglia e la passione di vivere il calcio? La differenza è che probabilmente l'agonismo è intrinseco nel talento innato e invece nel ragazzino che inizia per diletto non va forzato l'agonismo perché ormai è provato che crea ansia e quindi poi l'abbandono. Visto che io a tuttora 50 anni vivo di calcio come passione, volevo trasmettere questo ai bambini, la passione per uno sport che è poi il regalo migliore che possa fare un allenatore a un ragazzino. A un certo punto, dopo il cavalierato che è stato riconosciuto proprio a seguito di quell'episodio, cavalierato concesso dal Presidente della Repubblica, si sono spalancate le porte di questa nazionale molto particolare nazionale di calcio a undici dei sordi. Sì, ho colto al volo quest'occasione che mi è arrivata da un giorno all'altro e come sono solito fare mi butto a capofitto nelle cose e a loro sono piaciuto, per me è un grande orgoglio rappresentare l'Italia dei sordi in giro per il mondo e quindi fare il volontariato in un campo di calcio per me era un binomio assolutamente impareggiabile con nessun'altra cosa bella che mi potesse capitare nella vita. Come si fa ad allenare una nazionale di sordi? Ci sono dei gesti invece che delle parole e delle grida che siamo abituati ad ascoltare vedendo giocare professionisti e dilettanti sul campo? Beh, la mimica facciale nonché quella del corpo, il linguaggio del corpo è molto importante. Però ora che sono da tre anni cittadina nazionale mi rendo conto di quante cose io non sapevo della disabilità, della sordità e ora che piano piano li sto scoprendo andando a fare queste manifestazioni internazionali dove vivi 24 ore su 24 con la loro disabilità mi rendo conto che più passa il tempo e più si entra in empatia con queste persone e quasi mi sento sordo anch'io. Seguendo in streaming le partite o vedendole dal vivo le partite del calcio a 11 dei sordi si ha l'impressione come se siano entrati in sintonia con un modo di capire i movimenti, gli atteggiamenti, è un arricchimento questo? È un arricchimento per me e per loro perché loro erano abituati ad avere degli allenatori sordi e che quindi li faceva restare nella loro zona di comfort. Io sono andato un po' a stressarli con delle proposte un po' diverse e per me è stato formativo perché mi ha dato la possibilità di scoprire quanto si possa essere essenziali con molto poco e quindi per me è un arricchimento sia umano che tecnico d'allenatore. L'impressione da spettatori è che sia stato sicuramente un modo per entrare nel mondo del calcio giocato e quindi vivere l'esperienza agonistica, farla vivere ma che sia stato anche un modo per chi assiste di comprendere una metodologia completamente diversa. Questo sport, questo modo di fare calcio dà la possibilità di entrare in questo mondo e quindi di creare proprio un'empatia. Eh sì, perché poi vedendo le partite la prima domanda che mi ha fatta era come fa l'arbitro a interrompere il gioco, visto che con gli udenti lo si fa con il fischietto e quindi si scopre che con la bandierina c'è l'ausilio di una bandierina per interrompere il gioco oppure nelle piccole cose, se un allenatore come Gasperini deve cambiare il ruolo al terzino basta che urla e lo cambia, noi ci mettiamo un quarto d'ora prima di cambiare una posizione in campo quindi la scelta deve essere ponderata. Che cosa è cambiato in questi tre anni, in questa funzione di CT? Per quanto riguarda la nostra nazionale è cambiato molto perché avendo trovato persone che come me donano il loro tempo e le loro competenze abbiamo inserito figure professionali come il preparatore atletico, la mental coach, il preparatore dei portieri la fotografa ufficiale che tiene anche i social, è cambiato molto è cambiato il senso di appartenenza, è cambiato la tipologia di raduni che facciamo e per quanto riguarda me è cambiato che mi sento molto più utile che poi è la cosa che mi fa sentire meglio. Il calcio dei sordi è sicuramente una disciplina che merita un palcoscenico adeguato che cosa gli sta facendo per che questo avvenga? Noi con i social cerchiamo di creare appeal, cerchiamo di creare entusiasmo attraverso questa nazionale ma ci rendiamo conto che sono i risultati che portano un po' di visibilità e quindi silenziosamente ci vogliamo arrivare con la capabilità, con la perseveranza inseguendo un sogno che è una medaglia olimpica che potrebbe portare i ragazzi alla ribalta e quindi anche qualche supporto economico che non guasta mai per far crescere un movimento. Ricordiamo che questi ragazzi spesso usano le loro ferie per disputare i tornei, è così? Eh sì, loro devono abbandonare la scuola, il lavoro, usano le loro ferie quindi sono proprio sacrifici che forse un professionista non riesce nemmeno a capire infatti io dopo la sconfitta con l'Ucraina non avevo mai pianto per una sconfitta in campo di calcio e mi sono reso conto che cosa vuol dire vedersi sfilare sotto mano un sogno dopo aver fatto tanti sacrifici in giro per il mondo. E nel 2023 l'appuntamento con i mondiali? Nel 2023 ci siamo guadagnati l'accesso ai mondiali di Tokyo e speriamo di riuscire a partecipare perché ci vorrà un supporto economico importante ma noi vogliamo che questa squadra cresca per raggiungere il nostro sogno che sono le Olimpiadi in Giappone nel 2025. Concludo questa chiacchierata con una domanda. Per Igor Trocchia cosa è il calcio? È metodo? È disciplina? È umiltà? È un insieme di valori? Il calcio per me è tutto perché io mi immedesimo in questo sport che racchiude un sacco di valori morali, etici, educativi e sono cresciuto stando in uno spogliatoio sapendo stare in gruppo e da lì ho imparato un sacco di regole che poi mi riporto nella vita di tutti i giorni. Intanto con la prossima stagione allenerà in seconda categoria? Allenerò in seconda categoria che per me è la mia Champions League quindi la vivrò come... Diciamola a Bagnatica a Bagnatica, la vivrò come Mourinho vive la sua Roma e come Allegri vive la sua Juventus e ci metterò anima e corpo come faccio in tutte le cose che faccio abitualmente. Bene, grazie di essere stato con noi Grazie a voi per l'invito e Forza Italia! Grazie a voi Grazie a tutti